Buonasera, sono Maurizio Maggi, responsabile per l'Italia del gruppo Kessler e in questa sede vorrei parlarvi essenzialmente di Mazagan Beach Resort, il nostro resort in Marocco. Abbiamo lanciato un nuovo concetto che si chiama Fun and Golf, quindi che si spiega essenzialmente da solo, divertimento e un golf eccezionale Gary Player. Siamo partner dell'ufficio del turismo, lavoriamo con i principali operatori e siamo veramente interessati a sviluppare ancora di più il turismo italiano e cercheremo di far conoscere sempre più il nostro prodotto grazie anche ai fan trip e ai viaggi di Incentive.